Apre ufficialmente il Parco Tecnico Scientifico, il nuovo incubatore promosso da una società consortile formata da università, comune, provincia e camera di commercio di Pavia. Una grande partnership per favorire la ricerca, in particolare nel campo delle life sciences, le scienze della vita, e promuovere il trasferimento tecnologico al tessuto industriale del territorio. Noi siamo un parco tecnologico che vuole ospitare imprese che fanno soprattutto ricerca, naturalmente orientata al mercato, quindi non ricerca pura ma ricerca applicata, e l'obiettivo è quindi di ospitare delle imprese che fanno della ricerca il loro aspetto produttivo principale e quindi hanno obiettivi e risultati tipicamente nel medio e lungo termine. Il nostro obiettivo non è attirare imprese che invece fanno magari profitti subito, gli vogliamo i profitti, speriamo che ci siano, che le aziende vadano bene, che tante persone vengano qui a lavorare, che diventi un centro di aggregazione, e anche di tutte le istituzioni che stanno attorno, quindi centri di cura, centri di ricerca, policlinico, CNAO, eccetera, eccetera. Ad essersi insediate nel nuovo hub, inaugurato martedì 3 maggio in Via Taramelli, sei aziende spin-off dell'Università di Pavia. Tra queste c'è chi si occupa di nanomateriali, chi sviluppa anticorpi contro il cancro, chi realizza nuovi prodotti per uso terapeutico e offre servizi di analisi chimiche strutturali, chi lavora coi polimeri, chi coi prodotti dermocosmetologici, chi col cloud computing. C'è un po' da fare uno sforzo, che è quello di un po' uno sforzo culturale, di un cambiamento di mentalità. Noi ricercatori, mi ci metto anche io, non siamo degli imprenditori di formazione, ma ce la possiamo fare e penso che effettivamente questa opportunità possa aggiungere al tessuto pavese scientifico quell'aspetto pratico creando anche posti di lavoro, creando un volano insomma per far crescere il sistema Pavia della scienza, della scienza delle biotecnologie e del biomedicale in generale. Il parco tecnico scientifico è dotato di attrezzature e di macchinari all'avanguardia che potranno essere prenotati con pochi clic e utilizzati anche da esterni attraverso un'apposita piattaforma informatica.